ben ritrovati a voi tutti cari amici fan dal vostro nicola de lucia appena ho trovato l'articolo di cui parlavo della dell'incontri previsti per la l'odierna puntata di friday night smackdown ho detto ora faccio il video e poi quando finirà la partita del tennis magari verso l'ora di pranzo dopo l'ora di pranzo arriverà il video anche per il tennis allora la federazione ha annunciato ben quattro match per l'odierna puntata dallo show blu innanzitutto ci sarà la tanto aspettata sfida titolata intercontinentale tra shinsuke nakamura e brownstrom e io voglio il cambio di titolo car federazione da da il titolo a brownstrom ti prego poi inoltre avremo la rivincita del kickoff pre show tra shimus e shorty gable o chad gable come vogliamo definirlo perché comunque il match della royal rumble fu abbastanza interessante ed intrigante il terzo match della serata è un 3 contro 3 squadre complete a roman reigns e gli usos contro king corbin doff ziegler doff ziegler e robert trude l'ultimo match annunciato è una sfida per determinare sfidanti numero uno le cindure di coppia detenute dal new day se non vado errato dove ci saranno lievi maschineri odyssey tagger e revival doson e il suo compare il lucia o sparti e miz contro john morrison ovviamente per quest'ultima sfida penso che partono in bandaggio miz e john morrison anche se ci sono l'interessanti revival lievi maschineri ovviamente magari più dietro lucia o sparti non per importanza però e chiudo questo video dicendo dando delle piccole chic come voci di corridoio dicono che il boss della wwe vince mcmahon abbia già deciso il match che chiuderà l'edizione 36 di prester almenia anno 2020 e dovrebbe essere il titolo la sfida valido per il titolo da w brock lesnar contro drew mckindyre altri aggiornamenti su edge si dice che dovrebbe fare nell'arco di tre anni sicuramente più di tre match e oltre a ben 25 più apparizioni ed infine concludo dicendo che charlotte flair dovrebbe andare a prester mania non con becky lynch o con bailey ma niente poco di meno con l'attuale campionese di nxt ria riple questo credo molto per combattere la concorrenza la competitività che c'è già da un paio di mesi con l'all elite wrestling e io dico andiamo avanti così a e non ci dimentichiamo però è stato anche forse manca solo l'ufficializzazione che il nostro al kogan farà il ritorno in una show da w in quel di super showdown il 27 febbraio credo sicuramente attraverso un segmento cioè parlando al microfono al microfono credo che interpellarlo dal punto di vista fisico sia un po difficile visto un po l'età che ha comunque allora mi raccomando non perdetevi la prossima puntata di smackdown io me la sto già pregustando nella fantasia ma domani me la vedrò tutta non me la voglio perdere grazie a tutti alla prossima ciao